Cristiano, sarebbero un'infinità le cose da chiedere, io però vorrei partire dalle sensazioni, da due sensazioni, quella al gol di Rajcevic e quella al fischio finale finalmente che arrivava. Finalmente, in tutte e due le situazioni, sia che abbiamo fatto gol su una situazione che proviamo e riproviamo da tre mesi, ma che fino ad oggi non era mai venuta, quella dell'attacco del quinto alla profondità e l'attacco della porta dell'attaccante e poi avevamo in quel momento lì anche diversi giocatori in aria che avevano accompagnato l'azione, quindi bene e poi chiaramente quella al fischio finale perché abbiamo sbagliato tante volte il 2-0 su delle ripartenze del secondo tempo che ci poteva magari far finire con un po' più di tranquillità e invece ci ha costretto a soffrire fino alla fine.